Kailin 2 RTA Kailin 2 RTA Kailin 2 RTA un vetro di ricambio in Pirex dalla capienza di 3 ml e il nostro Kailin 2 partiamo subito dalle dimensioni intanto la base del nostro atomizzatore misura 25 mm per un'altezza dalla base al tip di 45 mm e 7 per un peso di 61 grammi andiamo a fare due chiacchiere su questo atomizzatore di Vandy Vape noi abbiamo recensito entrambe le versioni precedenti che sarebbero la V1 e la versione mini cioè la single coil e avendoli tutti a disposizione li ho portati tutti e tre con me per potervi anche far vedere da quali dei due atom sono stati presi le varie componenti qui abbiamo il V1 il Kailin mini single coil e il nostro V2 intanto come dimensioni come vedete a parte forse il Kailin 2 che è un pelino più alto più o meno abbiamo le stesse dimensioni il diametro era nel primo con una base di 24 che diventava poi 26 sopra il mini aveva un diametro di 24 questo qua appunto come abbiamo visto è da 25 se lo andiamo a analizzare vediamo che a tutti gli effetti praticamente è un ibrido tra i primi due per esempio del primo Kailin come vedete prendiamo pari pari questo genere di lavorazioni nella parte sia sottostante che sovrastante che sono esattamente identiche seppur qua ovviamente più piccole dato il millimetro in meno di spessore nella base è che qui appunto è opacizzato c'è questo materiale stile opaco come appunto nel mini ma esteticamente tolto il bubble tank lo ricorda veramente veramente tanto il primo ma ricorda ancora di più il mini come vedete le stesse lavorazioni come vi dicevo lo stesso identico drip tip nell'aria vedo delle diversità per esempio nel primo Kailin era più larga posso vedere però leggermente anche un po' più stretta nel Kailin mini ovviamente che era un single coil c'è un pochino meno d'aria ma non di tanto qui è cambiata anche proprio l'asola mi sembra più alta rispetto alle altre anche se di poco è leggermente più stretta però come vedete come design per il drip tip per i materiali veramente sembra un restyling del Kailin mini delle due anche la campana vedete che in tutti e tre sembra abbastanza simile sembra più simile a quella dell'uno dopo le andremo a vedere dentro però partiamo da una grande innovazione che è stata apportata in questo Kailin 2 rispetto ai suoi predecessori per esempio questa qua poi ragazzi del mio Kailin è proprio la primissima versione dopo ne hanno fatto un'altra anche con le asole con i classici sistema di refill questo era proprio spartano cioè rimuovevi il cap e avevi tutta questa zona per effettuare il refill uno dice wow fico comodo ok ma dall'altro lato quando qui andavate a mettere l'espansione del camino il vetro da 4 molto spesso quando andavate a svitare il refill veniva via anche l'estensione del camino e infatti ho smesso di usarlo nella versione da 4 ml per questo motivo e l'ho sempre usato solo così oltre il fatto che come vedete qui abbiamo anche nel primo ovviamente un controllo del liquido possiamo decidere noi se aprire o chiudere i canali del liquido tramite rotazione Kailin Mini appunto già di default era uscito con il classico inserto proprio quello come piace a noi quindi quella parte centrale rialzata le asolone belle larghe infossate niente da dire con una filettatura che va come deve andare perfetto qui già non abbiamo più la regolazione dell'aria è fissa dopo vi faremo vedere anche come pesca nel 2 invece si sono adattati all'andamento di questi sistemi a baionetta a clip realizzando a mio parere il migliore che io abbia visto finora c'è l'indicazione del verso in cui bisogna spingere ragazzi sotto questo aspetto è il migliore c'è proprio niente da dire cioè perfetto questa è proprio quella bella durezza che non ti si potrà mai e dico mai per sbaglio aprire in tasca al tempo stesso con la giusta decisione perché comunque ragazzi un minimo decisi dovete tirarlo via ma sinceramente preferisco fare quel pochino di pressione in più quella volta due facciamo anche tre al giorno che lo riempio piuttosto che rischi di aprirsi in tasca e versarmi il liquido ovunque se proprio dobbiamo fare i pignoli lo avrei giusto fatto infossato perché ovviamente dopo che andiamo a effettuare il refill andando a chiudere tutto il liquido che si accumulerà qui ai lati verrà spinto fuori e quindi dovrete asciugarlo piccolezza ecco però anche la dimensione dell'asola di ricarica è bella generosa quindi si ricarica tutto per bene e fin qua infatti niente da dire è spettacolare per quello che riguarda la capienza abbiamo con il vetro standard come vi ho detto prima 3 ml e con questo bubble tank 5 nel primo invece avevamo 2 ml con questo vetro e appunto 4 con l'espansione sia di vetro che di camino nel kailin mini avevamo la stessa capienza di questo quindi 3 ml con quello normale e 5 con il bubble quindi siamo riusciti a mantenere anche la stessa capienza della versione single coil come vedete anche qui sulle campane ovunque c'è scritto kailin entrane qua kailin 2 e su tutti e tre abbiamo il nostro simbolazzo di vandy vape andando a rimuovere il nostro deck e la nostra base possiamo rimuovere il nostro vetro tramite una leggera pressione dato che è fissato tramite questo o ring nella parte alta e tramite quello che è situato internamente nel deck anche qui lavorazione opaca come per l'ultimo anche sulla campana questa lavorazione opaca che mi piace un bel po' ma andiamo a guardare la campana la campana mi piace un bel po' per il fatto che ricorda molto quella del primo ma è più bassa scusate ragazzi se vi faccio sempre tutte queste comparazioni tutte queste storie qua ma questo atomizzatore ci tengo particolarmente visto che sono stato un amante sfegatato del v1 e voglio cercare di avere un confronto più eco possibile come possiamo vedere il foro del camino la larghezza del camino del calino v1 è leggermente più grande del v2 che è questo qua alla mia sinistra ricordo forse nel calino v1 la bombatura la parte ricurva è più alta prima di arrivare all'imbocco del camino mentre nel 2 forse ci facciamo più caso lateralmente si neanche da fuori non si vede un granché comunque nel 2 la spiombatura è più corta proprio rispetto al calino v1 ma nel complesso poi come tutta la campana detta come va detta ma neanche perché se qui contiamo che questo è il flusso del liquido no delle due la campana sembra leggermente ma leggermente più alta nel v2 perché nel v1 vi sembra così alto ma tenete conto che fino a qui c'è la regolazione del liquido e il deck quindi la vera camera inizia da sopra a questi fori quindi anche mettendoli così di fianco vediamo che più o meno si siamo lì forse il calino 2 è leggermente più alto ma andiamo a parlare veramente di poco e lo hanno fatto e questo è un secondo me ragazzi quindi per favore non prendete per oro questa considerazione quella del calino mini è l'unica veramente diversa dalle altre due perché non presenta la classica spiombatura che presentano sui v1 che v2 all'interno c'è più che altro una svasatura al centro all'altezza dell'imbocco del camino mentre attorno a questa svasatura la campana è proprio piatta quindi c'è un giro d'aria un po' diverso che secondo me con alcuni liquidi penalizza perché con questo qua con il calino mini per quello che l'ho potuto usare io diciamo che è un val liquido più che standard cioè con i cremosi va veramente da dio però ci sono anche alcuni cremosi che sembrano stranamente un po' più piatti mentre ce ne sono altri che sono veramente esaltati in maniera impressionante ma per le prove che ho fatto io è sembrato così random che non sono mai riuscito veramente a farmi un'idea concreta perché è sempre variato molto da liquido a liquido ecco poi andremo a parlare anche dopo di questo nuovo mentre questo qua mi sembra molto 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 più lineare come resa aromatica andiamo adesso alla parte cruciale cioè questo deck guardate il deck ragazzi sotto abbiamo la regolazione dell'aria rispetto agli altri in generale mi sembra molto morbida questa regolazione dell'aria anche se comunque una volta che lo avete installato sulla vostra mod grazie a questa leggera sporgenza che abbiamo nella parte superiore è molto difficile accidentalmente andare a intaccare la regolazione dell'aria bisogna comunque un vino non doverci andare di proposito quindi non lo reputo un grande contro questa morbidezza dell'asola dell'aria pin placato oro 24 abbastanza sporgente non troppo ma il necessario per far sì che si possa utilizzare su un mod con attacco ibrido tornando al punto al deck abbiamo questo surrounding air flow quindi un air flow tridimensionale che prende quasi tutta se non proprio tutta la superficie della coil prendendo aria da queste tre bocche per lato le definisco bocche perché sono proprio delle asole a tutti gli effetti più che dei fori e abbiamo vedo se riesco a misurarli questi fori sono circa 4 mm abbondanti di larghezza e alti 1,45 1,44 1,4 sì più o meno e in aggiunta questo per quello che riguarda l'aria che arriva lateralmente mentre al centro abbiamo questa serie di 8 pallini 2 righe da 4 pallini circa 1,2 più o meno ognuno questi 8 fori da 1,2 quindi abbiamo un giro d'aria come potrete immaginare decisamente decisamente importante specialmente rispetto alle altre versioni come vedete anche qui abbiamo un ibrido perfetto tra i due perché abbiamo lo stesso incavo ovviamente largato per il dual coil del mini che già più o meno andava a riprendere il concetto del primo che però non era proprio una valle ma vedete che era molto più spigoloso mentre qui inizia ad essere applicato proprio il principio di valle che è stato poi riportato qui come vedete gli hanno dato lo stesso imprinting del primo quindi dell'aria abbondante che venga sia da lato che da sotto però modificandolo anziché fare due boccole grandi due asolone grandi ne hanno fatte svariate piccole e al centro un aggiuntivo airflow che prende lo stesso identico stile della versione mini cosa molto bella non l'hanno fatto gold plated perché guardate il mio primo non so se si vede dal video ma è veramente massacrato è vero che sto atom ragazzi l'ho sfruttato che l'ho sfruttato che l'ho sfruttato infatti lo tengo più che altro come cimelio per quanto mi è piaciuto ma non lo uso più da un po' però con il tempo comunque queste placature gold plate ed specialmente su questa fascia di prezzo tendono molto spesso a venire qui anche qui sta già scolorendo hanno optato per lo stainless steel cosa che preferisco di gran lunga stessa cosa per il serraggio giusto nel mini avevano capito che le brugole avevano un po' rotto i maroni nel 2 se lo sono scordate quindi hanno tornato a mettere le brugole rispetto al mini in cui aveva messo già l'inserto a croce tolto questo abbiamo in tutti e tre le casistiche un deck postless che ricordo che quando era uscito il kailin non ce n'erano tantissimi di deck postless quindi appunto seguiamo la nostra torretta isolata vedete qui c'è l'isolante qui quindi abbiamo positivo e negativo positivo e negativo e anche qui tramite questi isolanti qui il positivo e qui il negativo appunto dicevo postless entrambi piani i fori di inserimento qui invece variano perché essendo appunto concavo essendo curvo anche i fori sono curvi allora non è brigoso da rigenerare però rispetto agli altri per il fatto che è inclinato riuscire a far toccare sempre bene in fondo le gambine intendo all'inizio che lo rigenerate non è immediato come in questi per il fatto che è curva però comunque ragazzi non si sta parlando di niente di insormontabile sono le classiche cose che dopo che l'avete rigenerato due o tre volte fatte senza alcun tipo di problema ecco che poi si parla anche lì di piccolezze mi baso sempre per quella che può essere l'esperienza di un entry level ma per un utente più avanzato sicuramente non sarà un grande problema i fori delle coil l'unica cosa me le aspettavo un pochino più grandi rispetto agli altri come vedete che sono molto più grandi i fori che ospitano le nostre coil sono un pochino più piccoli anche se comunque andremo a vedere poi ci sta perché rispetto agli altri questo è quello della saga che caricherei meno a livello di ferraglia ma ne andremo a parlare successivamente dopo guardiamo giusto il sistema di alimentazione non vi parlo appunto del sistema d'aria perché ne abbiamo già parlato abbondantemente però per quello che riguarda il sistema di alimentazione il primo kylin bisognava farci la mano nel senso perché il trick era far sì che l'imbocco del canale del nostro cotone fosse tappato con il cotone delle coil ma fosse messo molto corto in modo che questa asola laterale risultasse praticamente quasi del tutto libera dal cotone e in questo modo andava che era una bellezza qui stesso identico discorso abbiamo questo canalino per il solo buffo perché è appunto un single coil che vi bastava come abbiamo detto anche nel nostro video fermarvi a questa altezza e lasciare il canalino che si crea qui questa leggera fessurina che si viene a creare dopo quando andiamo adesso dalla camera non so se riuscirete a vederla ma si creerà questa piccola fessura a tank montato basta che la lasciate libera e lui si alimenta senza alcun problema qui abbiamo secondo me un ulteriore upgrade e adesso vi dico subito perché io amo questo tank anche perché appunto sono riusciti a rendere praticamente del tutto non dico del tutto per il fatto che proprio fisicamente l'aria è sotto quindi non posso definire un 100% ma più o meno abbiamo lo stesso livello di leak proof come tutti i top airflow che abbiamo recensito ultimamente quali serpent elevate ammite mtl rta mk e tantissimi altri atomizzatori che adesso sta nascendo molto questa scuola di mettere l'aria in alto appunto per rendere gli atomizzatori il più leak proof possibile quindi il più salvi possibili da quello che possono essere le perdite di liquido qui abbiamo quasi insomma con l'aria da sotto ma già si vederà come è impostato perché abbiamo il deck che intanto dopo magari a coil posizionate si nota di più ma già le coil non saranno tanto alte per far sì che questo giro d'aria prenda bene tutto e venga sfruttato in più con il cotone che verrà messo qui già questo basta a far sì che anche se qui per assurdo non ci fosse liquido sarebbe molto 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 difficile comunque far sì che il liquido possa arrivare nei fori dell'aria per poi essere perso nella parte sottostante anche perché cosa hanno fatto hanno fatto un deck molto ampio ma i canali sono proprio precisi precisi per farci stare i baffi di due punte da tre proprio a misura ragazzi adesso che andiamo a rigenerare lo vedrete in modo che voi dopo che lo rigenerate mettete il vostro cotone vi fermate a questa altezza qui ma questo ripeto ve lo farò vedere meglio dopo e ragazzi è impossibile che questo tank vi perda vale proprio lo stesso principio degli atom con il top fill quindi delle due state attenti a non mettere troppo poco cotone per non far sì che poi dopo si sovrallimenti e che quindi vi schizzi il liquido sostanzialmente però rigenerato a dovere e non è difficile per niente siamo abbastanza sicuri che il nostro atomizzatore non ci perderà mai liquido dalla parte sottostante andiamo alla rigenerazione abbiamo provato le coil in dotazione le abbiamo usate per quasi tutti i nostri test perché comunque risultano abbastanza azzeccate anche se comunque anche dopo vari posizionamenti risultava un po' vuoto il deck si sentiva che potevamo metterci qualcosa in più al tempo stesso avevo provato con una normale fused sempre in e-chrome con interni da 26 quindi con due interni anziché tre come quelle in dotazione ma col core da 34 ed effettivamente era un pochino troppo quindi abbiamo trovato questo compromesso e Mice ci ha preparato questa bella stecca di fused clepton 3 core con interni da 27 ed esterno 38 e direte voi eh ma come siete rognosi che adesso anziché il 28 avete usato il 27 quando cominciano ad essere tre core anche solo un gouge secondo me la differenza la fa e come visto che ci sono proprio tanti fili interni di base e facciamo 6 spire su punta da 3 una volta preparate le nostre coil appunto ci andremo a servire della mascherina che ci ha dato Vandy Vape quindi ci indica al numero 5 di tagliare le nostre gambine quindi noi infiliamo mettiamo la coil abbattuta quella che mi viene direttamente e tagliamo gli eccessi nella parte sottostante a questo punto non ci resta che installarle nel nostro deck che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi più o meno così. Come vi dicevo prima non serve abbondare con il cotone ma ottenere l'effetto di cui vi ho parlato precedentemente. Cioè di far sì che appunto questa asola rimanga completamente libera e il cotone sia appena fermato dalla filettatura. Ma proprio appena appena appena. E dite voi eh che pignolo cosa cambierà mai se tu da così lo metti un pochino più lungo. In questo sistema secondo me cambia per il fatto che hanno fatto questo canale così tanto stretto. Quindi in questo canale così stretto anche solo mettere un pochino pochino di cotone in più implica secondo me il fatto che poi dopo tende ad alimentarsi un po' peggio. Ma attenzione non prendete per alimenta male come per stecco. Magari semplicemente non arrivate a steccare però se fate dei tiri e non date tempo togliete magari il deck e vedete che una buona parte del cotone è asciutto o quasi. Ecco quindi comunque non state steccando ma non state neanche ottenendo il massimo della resa del flavor che potreste ottenere. In questo modo vedete giusto un po' di cotone qui ma è giusto la parte di fondo della parte sflufflata come ci piace tanto dire. Quindi appena si bagna questa qua diventerà appena visibile. Questa qua per me è l'altezza perfetta perché così appunto oltre che alimentarsi proprio bene se lo mettete a questa precisa altezza che vi ho fatto vedere io. Anche dopo il refill non capita praticamente mai di fare delle tirate un pochino bagnate dopo aver effettuato il refill. Facciamo la stessa cosa che dall'altro lato. Ecco qua il nostro atomizzatore rigenerato è pronto all'uso per collaudarlo. Visto che ci ha parecchio incuriosito vedere come andasse con questo liquido in base alle prove che abbiamo già fatto ci useremo il nostro liquido Vapors for Passion Miles che è un latte fresco con cocco e pistacchio. Questo liquido è molto mutaforme anche se abbiamo potuto constatare che almeno secondo noi il meglio di sé lo dà in flavor e ridete ridete ma con coil prefatte a mesh. Con le coil prefatte a mesh questo liquido veramente ha una resa sensazionale. Magari questa build è un po' spinta per questo liquido però vorrei almeno farmi un'idea di quali note escano in questo setup. Collaudiamolo. 95 watt sulla nostra triade 250 Cui. Alleluia. Un'ittima. Sicuramente a 95 watt l'ice lo sentite. Allì ragazzi. Ok però vi posso dire che in tutti gli altri setup in cui abbiamo provato questo liquido in cui il ghiaccio sovrastasse un po' il resto questo è l'unico in cui nonostante a queste temperature nonostante a questo vattaggio la parte mentolata la parte poi neanche mentolata la parte ghiacciata. sovrasta e il resto si sente comunque molto 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 molto. Porca miseria cioè il cocco e la parte coccolattosa è scandita veramente da dio proprio. Quest'atom qua ragazzi. Per me guardate io non mi vorrei sbilanciare troppo però a livello di tank è veramente pace nella fascia top. Sì non mi sbilancio troppo ma è veramente tra i top cioè tra i top tank dual coil esistenti al mondo per me questo signorino qua c'entra di tutto diritto. E adesso vi spiego anche perché tra le varie feature. Allora punto numero uno rispetto agli altri Kylin. Già nel mini avevano risolto la cosa ma hanno messo questo sistema che ragazzi se. Cioè una corsa è orgasmica. Orgasmica. Questo non ti si aprirà mai in tasca neanche se vuoi. A parte sicuramente fa un po' di condensa ma ragazzi cioè sti cavoli tolto quello è bestiale. Veramente sotto questo aspetto il refill bellissimo. L'unica cosa è che possiamo farlo un po' scavato in modo che dopo quando richiudiamo non viene fuori quel pochino di condensa. Piccolezza però comunque cosa da notare. Abbiamo provato a fare queste 27x38 eh. Però perché le 28x38 in dotazione mi sembravano leggerine sinceramente. Anche lui ha avuto un po' la stessa impressione. Ci vorrebbe la via di mezzo ancora. Eh perché queste qua sono giusto un gougi meno di wrap. Magari con 226 esterno 38 la potevamo azzeccare secondo me. Sì. 226 interni esterno 38 magari esterno 36 per me la azzecchiamo. Però sì con quelle quali in dotazione si sentiva proprio che c'era dell'aria. Si mancava qualcosa. E l'aria vuota. Quando andavi a scuola ti dicevano sei bravo però potessi fare di più. Era più o meno lo stesso concetto. Sì c'era proprio la percezione dell'aria vuota che ti arriva in bocca proprio quando stai sprecando dell'air flow. Perché poi come avete visto oltre che abbondante il flusso d'aria è proprio molto ben distribuito. Quindi il posizionamento delle coil per l'ottima resa di questo atom è fondamentale. Assolutamente sì. Tant'è che vi danno anche la mascherina come abbiamo visto vuotofo. Altra grande cosa perché un'altra persona che non ne capisce niente di rigenerazione. Proprio torniamo a chiedere scusa ma a livello handicap prendi metti lì taglia e sei sicuro che l'hai fatta. Bene. Queste sono dotazioni ragazzi che personalmente fanno salire tanto secondo me i rating del prodotto. Perché veramente sono quelle piccole cose che per chi ha iniziato adesso a mettere mano su questa roba è oro. Veramente è oro. Stesso discorso. Adizionamento. Minchia con cosa abbiamo cominciato noi ma se solo ne sapessero i tre quarti che ci stanno guardando se lo vogliamo. Tornando a noi. Discorso è un altro. Lo cotonate bene come ho fatto vedere. Non si allaga quando lo riempite. Non dovete aprire e chiudere l'aria. Sto deck non ho mai pisciato ormai tra una cosa e un'altra è quasi una settimana che lo uso. Miles anche lui l'ha usato prima. L'abbiamo provato cotonato in ogni modo. Mai fatto neanche una lacrima però. Atomico. Veramente. Veramente atomico. Rispetto agli altri. Ecco rispetto agli altri credo che abbiamo fatto tanti upgrade. Ma non solo per il discorso del refill. Perché comunque la qualità costruttiva mi sembra molto in linea con gli altri. E niente di troppo. Regge coil meno potenti degli altri due. Perché anche il kylin primo. Il primo kylin per rendere bene andava comunque un minimo spinto. Non chissà quanto. Però comunque. Più di cose. Se avessimo messo queste coil pari pari. Lì dentro sarebbero state anche leggere nel vecchio kylin. Ma comunque non avremmo avuto di sicuro il calore che c'è qua. Esatto. Kylin mini uguale. Anzi il kylin mini regge il calore. Che è una cosa assurda. L'abbiamo detto anche nel nostro video. Ci avevamo messo coil complicate di ogni tipo. Reggeva il calore veramente veramente bene il kylin mini. E qui sotto questo aspetto è quello che mi ha un po' più tra virgolette deluso. Ma c'è un perché. Perché hanno fatto questa campanina che sembra un più o meno bassa. Comunque un pochino più piccola nel complesso del primo. Anche perché comunque c'è il deck che è un attimino più spazioso. Più pieno dentro. Quindi comunque c'è meno spazio nella campana. Sicuramente riscalda di più. Però al tempo stesso posso dire che rispetto agli altri che avevano la particolarità di avere molta intensità. Ecco. Erano atom molto molto aromatici a livello di intensità. Specialmente il primo. Con il mini come detto prima erano alcuni liquidi. C'erano alcuni liquidi. Quello che aveva portato il biondo dal Vipitali. Quell'etichetta viola. Nella liquid state. Non mi ricordo il nome. Comunque una linea che avevano fatto altri due liquidi anche mi sembra. Comunque era sto donut che in qualsiasi setup era dolce così a random. E messo lì dentro. C'è una resa ragazzi mostruosa. Come al tempo stesso ci ho messo altri liquidi che credevo avrebbero pompato a manetta. Invece mi avevano lasciato un po' interdetto. Il Kylie Mini ho notato che è molto un prenderci quei liquidi. Ecco. Qui invece vedo che rispetto a tutti gli altri. E' comunque molto intenso. Leggermente meno. Paragonandolo agli ultimi atom che abbiamo provato. Infatti ho fatto anche delle prove. Tra questo e l'MK appunto. Con lo stesso liquido. Non stessa build. Però con build calibrate per. E nell'MK. Comunque non c'è un cacchio da fare. Quell'atom ragazzi ha un'intensità aromatica che è fuori dal comune. C'è proprio ricco. Anche se come avevamo detto noi. Molto mono. Per esempio il Magic 2 di Supreme. In qualsiasi setup non avevo praticamente mai sentito il cioccolato. Lo sapevo solo perché abbiamo intervistato i ragazzi di Supreme al Vepitali. Messo lì dentro sapeva principalmente di cioccolato. E poi forse vagamente qualcosa del resto. Tende proprio ad evidenziare a bestia solo alcune parti. Le parti un pochino più cremose. Cioè scandisce le parti singole. Ma neanche. Però alcune le copre quello il discorso. Per esempio anche il Dominus Double Chocolate. Se dà peso alcune note e le altre le annullano. Esatto. Esatto. Infatti il Dominus Double Chocolate che in alcuni setup l'abbiamo provato su tre setup. Ci sembrava un po' amarognolo. Quello era quello in cui lo sentivo meglio. Perché appunto questo tipo di flavor tendeva a lasciare un po' fuori la parte amarognola. Concentrandosi sulla parte principale del Dominus. Leggermente accompagnata dall'affondente. Infatti pauroso. Stessa cosa il Miles. Ovviamente lo preferisco lì per il fatto che l'ice non risulta così pompato. Però al tempo stesso questo posso dire che è molto 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 più completo. E versatile a livello aromatico. Cioè qui abbiamo fatto un tank che ti dice vada a dio con qualsiasi cosa ci metti dentro. Perché ci abbiamo provato. Cremosi puri ignoranti. Cioè un milkshake all'oreo quindi più ignorante di così si muore. Meno intenso, meno corposo dell'MK. Ma uscivano molte più note. Tipo la parte biscottata dell'oreo. Usciva molto meglio qui che nell'MK. Dove la parte lattosa, leggermente cioccolatosa, era proprio il dominio totale. Vabbè comunque a mio avviso la fortuna di un atom valido talvolta è proprio il fatto che possa essere buono con una moltitudine di liquidi. Perché comunque la maggior parte dei vapor non è che si va con una cosa e basta. Ma variano. E quindi avere un prodotto che può essere versatile con più cose è comunque una cosa positiva. Beh non sono totalmente d'accordo. Li dipende comunque anche molto dal tipo di vapor. Perché sono anche quelli un po' metodici come noi che magari... Dipende cosa stai cercando. Sì no no era per dire che comunque un prodotto valido. Che comunque ti dà la possibilità di poter spaziare ha sicuramente un valore aggiunto secondo me. Perché tu puoi scegliere un tipo di prodotto perché ti piace quella categoria e ti fossi lì di su quella. Però comunque avere la possibilità di avere un prodotto che ti rende lo svapo qualitativamente valido. A prescindere più o meno dal liquido che ci metti comunque è una cosa positiva. Assolutamente. Assolutamente. Infatti personalmente mi ritengo più che soddisfatto. E vi dico una cosa. Di quelli che abbiamo provato noi quest'anno. Io credo che questo e le MK siano i tank più aromatici che ho sentito quest'anno. Almeno vi ripeto. Che noi abbiamo potuto provare e sentire. Però così a mente adesso non so perché comunque in un anno ne è passata di acqua sotto i ponti. Ma secondo me tra tutti i tank che abbiamo provato. Questo insieme alle MK sono gli Atom assolutamente più aromatici. I tank scusate. Pi aromatici che abbiamo potuto provare quest'anno. Fascia di prezzo siamo tra i soliti 30-40 euro. Quindi nel complessivo dopo avervi gonfiato i marroni per tutto sto tempo con tutti questi sproloqui. Possiamo solo che dire che Vandy Vape, la grande mamma Vandy Vape continua a sfornare sempre. Bambini bravi. Il video è terminato. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace qua sotto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. E se siete su Facebook mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook. Un bel mi piace al video. Condividetelo everywhere. Seguiteci su Instagram e sul nostro canale Telegram. Io sono Cata. Io sono Miles. E alla prossima recensione. Ciao. Ciao.